Salve a tutti ragazzi, qui è Gintokio con voi che vi presenta un nuovo gioco di Pokémon, Pokémon Type Wild. Vediamo di che si tratta. Non è il normale gioco di Pokémon, ma è una variante molto ben fatta, secondo me, anche se i personaggi sono pochi. Non so se questa schermata vi dica niente, ma è la tipica schermata dei picchiaduro. Ebbene sì, Pokémon Type Wild è un picchiaduro fighissimo. Che ho scoperto girando su YouTube, vedendo altra gente giocandoci. Ecco l'All Bunny. Maledetto. È piccolo, è difficile da colpire. Dagli un po', vai. Facciamolo fuori. No, 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 no. Maledetto l'All Bunny. No, no. Orecchie maledette. No, devo usare il fuoco e lancia fiamme come ho fatto. No. Ma che era? Stone kick. Yeah. Ho battuto, vabbè. Yeah. Non so nemmeno come si usano le mostre speciali, va bene. Cioè, sono proprio... L'ho provato poco fa, ma sono veramente scasso. Ma ho vinto... Oh, ecco. Per fortuna. Non so nemmeno come chiamare gli aiuti. Che cavolo era quel coso? Ah, quello era lo scudo, che non so come si faccia. No. 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 Che cavolo... Doppio canterista. Maiezione, ho pure il joystick mezzo scassato. Come faccio a usare... Quel Blastoise lì. Maledetti, scrivetemi i comandi. Non ci provava proprio. Ecco. No. Basta. Ma hai detto l'all panni. Non posso fare una cattiva figura. Capiscimi. Oh. Bene. No, che è ma wild. Oh. Calcio infogato. Sì, è brustolito. Mangiamoci questo coniglio. Yeah, vado. Figo, blattina. Dai, si può andare avanti. Forse riesco a finire l'arcade mode. No, vabbè. Sì, whatever you say. Vabbè, ci metterai troppo a leggerlo. Devo riprendere col giappone. Fight. Ma che... Perché? Perché lui riesce a poffare subito le mosse speciali? Oddio, l'evoluzione di Bidoof. Quanto sei brutto. No, mancato. Non ti azzardare. Ma perché ti puoi allungare? Tenby Rubber. Mr. Fantastic come Pokémon. Oh, no, no, no. Barassi Semi. No, ma dai. Ma è OP. Bribu. Non posso perdere. Ma se premo tutti i pulsanti insieme non mi fa niente, vero? Ma che... Ah, mi hai preso proprio là sotto. Eh, vedi? Perché non posso usare la mossa speciale? Non so come si fa. Maledetto. Non posso perdere. No. Maledetto. Voglio la furia. Ma che cos'è? Perché ho perso? Cosa ho fatto? Ma OP? Devo termine le mosse. Sì, allungati. Continue, yes. Hai detto, non puoi battere il blattino. Siamo fottutissimo Pokémon di erba. Siamo fottutissimo Pokémon di fuoco. Ce l'hai provato, eh? Sì, sì. Perché? Come ha fatto? Cioè, noi non vi ho fatto niente. Ma cos'è? Scusate se parlo poco, ma sono concentrato a battere sto Brilum. Maledetto. No, basta. Devo batterlo. È questione di vita o di morte. Non puoi vincere con un attacco tanto stupido. Invece puoi vincere. C'è solo quell'attacco, questo Pokémon. Ma cosa? 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 Luce sto cavolo. Luce. Non te la ridere. Continue, yes. Basta. Abatto lui e poi basta. Maledetto. Piano piano. Perché? Oh, guardalo. No, basta. Guarda. Mi assorbe pure l'energia. Guardalo. Mi assorbe l'energia, maledetto. Questa l'ho persa. Mi riesco a fare nemmeno mezza mossa. Guardalo. Ma è OP, Brilum. Ma tutti i Pokémon piccoli poi mi date. Maledetto. C'ho Blastoise. Come lo uso? Ma che era? Guardalo. Ti devasto se ti prendo. Oh, sì, bello. Come si fa però? Quello che ho fatto. Ma cos'è che ti... Che fai così all'aria da solo? Cosa? Perché? Bello, insomma. Oddio. Come se devi recuperare la guardia? Attaccalo quando ti sta per attaccare. No, non con la ginocchiata, magari. Ma perché? Perché? Potevo usare la super mossa. Basta, ultima volta. Ho capito come counterizzarlo. E poi ho perso. Ho perso lo stesso. Però va bene. Dai. Ce l'hai provato. Bello. Maledetto. Maledetto. No. No, maledetto. No, non correre. Non cogliere lì addosso. Perché go? Qui io come faccio ad avere quel go? Dai, attaccami, attaccami. Non attaccare l'aria. No. No. Perché non avevo tolto il tempo io nelle opzioni prima. No, ma dove? Dove mi è colpito? Dove? You lose. Dove? Mi è colpito. Ma l'hai detto. Ultimo round. No, non è vero. Ultimo per me se perde. Protect. No, non c'è prova. Perché? Perché? Come fai? Come fai? Io non riesco più a fare le mie mosse. Super mosse. Guardalo. Brilum è imbattibile, ragazzi. Nei Brilum se dovete prendere un Pokémon. Non fate come me che ho preso Bladding, anche è troppo alto. Ragazzi. Per favore. Ho perso. Non mi interessa. Ti batterò da solo, dopo. Punto. Non me lo ha. No. Eh, bravo. Devo morire. Quindi, ragazzi. Avete visto? Questo è il Pokémon Typew Wild. Niente fighissimo. Se magari aggiungessero più personaggi, sarebbe ancora più figo. Vi lascio qui. Provate voi a battere Brilum. Commentate e iscrivetevi. Il link è in descrizione. Mettetevi piace. E... Condividete il video. E ci vediamo alla prossima. E qui, da Kintoki è tutto. Bella ragazzi. Ma cos'è che ti fai così all'aria da solo? Cosa? A parte la sfida di Ju-Onni Rivale. E il turno di Charmander è andare in capola Ju-Onni Rivale. Perché non l'ho chiamato Ju-Onni? Oh no, per fav... Vabbè, si... Bla 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 bla... Si... Non è la prima volta che gioco a Pokémon, per favore. Quanto è bella la grafica brutta vecchia di... Di Pokémon al gente.